Prima di tutto ti voglio ringraziare che mi lasci uno spazio nel tuo canale Tanti di voi mi conoscono già, sono Walter, un ragazzo olandese Che investe da più di 8 anni nel mondo delle cripto, delle borse, materie prime, immobiliari, varie cose Tanti di voi mi hanno chiesto, ma Walter come hai fatto, dove hai investito, dove devo comprare, cosa devo comprare Dammi una mano, insegnami Da lì ho capito che dovevo iniziare questo progetto che l'ho chiamato Be Ready E ascolta bene, aiuterò solo, ma davvero solo 30 persone Quindi se sei interessato fai in fretta a iscriverti E cosa ti insegnerò, ti farò capire perché investire, dove investire, cosa guardare, cosa non guardare Ti aiuterò in questo processo di investimenti E se hai voglia e sei interessato spendi solo 10 minuti di tempo della tua vita Vai su questo sito e ti spiegherò tutto bene Ci vediamo a presto Ci vediamo a presto